la rinascita perché dopo due anni di lockdown di tutti i tipi di tutti i generi praticamente ritornare a vivere stare sulle piazze stare con i bambini risocializzare è la parola d'ordine ricordiamoci che le feste archimede sono nate per valorizzare il genio e il talento dei nostri ragazzi questi lunghi anni di lockdown hanno fatto e hanno nuociuto molto ai bambini e ragazzi per cui riprendiamoci la nostra strada riprendiamoci l'aria riprendiamoci il sole cosa ci aspetta carlo gilistro a parte il finale luca barbarossa che sarà la nostra chicca e soprattutto non tanto luca barbarossa come cantautore come cantante che già per me uno dei più bravi e assolutamente ad altissimo livello ma soprattutto perché sta girando con un tour autobiografico e a noi quello che interessa di luca barbarossa non è solo la musica come arrivato a fare ad essere un talento e un genio lui parlerà di sé alle feste archimedee per far capire quali percorsi i nostri ragazzi debbano intraprendere per arrivare comunque al successo perché spesso questi ragazzi non vengono valorizzati né dalla società e spesso non riconosciuti dalla società questo è fondamentale e poi un'altra cosa straordinaria il le costruzioni questa grande novità che quest'anno avremo le costruzioni della famosissima casa di costruzioni la più famosa al mondo è in banca d'italia fra altre cose quindi apriamo questo palazzo storico e poi ancora un'altra cosa tanti giovani talenti ma una torneo di scacchi che faremo a piazza duomo immaginate 35 tavoli di scacchi in cerchio magico a piazza duomo con una scacchiera gigante quindi questa è una cosa che praticamente non dobbiamo farci scappare perché sarà una magia anche di scenografie una magia di cose belle da scoprire e poi viverla questa questa nostra ortigia come l'abbiamo fatto in tanti anni